Ciao amici di SIX, sono ancora io e io avrei una proposta da fare a SIX anche se credo che sarà inaccettabile ditemi voi se può essere una buona cosa e se chi di dovere può far arrivare a SIX questa proposta non so se è già stata fatta però sicuramente sì siccome tanto noi siamo così tra virgolette disperati perché vogliamo i nostri soldi che siano crediti, che siano wallet, che siano soldi fisici si potrebbe fare la proposta SIX di azzerare tutto quindi loro hanno tutti i nostri pagamenti quindi le Turbo e le Family principalmente, anzi solo quelle a me non interessa di avere il 100% di quello che ho speso ma basta riprendere i soldi che gli ho messo al netto delle sponsorizzate chiaramente che dovevamo acquistare con le Turbo e con le Family quelle vabbè sono prodotti a dire la verità le ho finite quasi tutte quindi quelli ce li possono ottenere le altre che sono poi crediti che generano loro quindi non è che devono andare a recuperare soldi da chissà chi quindi quelle ce le possono ridare al netto quindi vi spiego se io ho comprato una 60-100 con sponsorizzata da 25 euro quindi 10 le ho pagate 625 euro per avere 1000 euro a me basta avere indietro 600 euro i 25 della sponsorizzata li ho persi i 400 che avrei guadagnato non mi interessa però almeno riprendere i miei 600 euro loro sanno che io ho pagato con carta di credito ho pagato con Paypal ho pagato con Amazon Pay bonifico insomma quello che è tanto loro lo vedono vanno a ritroso eliminano chiaramente quelle che sono già state non caricate nel nostro wallet ma quelle effettivamente spese è una cosa fattibilissima e poi si azzera tutto passato questo periodo di instabilità economica generale io non lo so intanto loro si mettono a posto fanno quello che devono fare riparte 620-20 con le nuove condizioni che il mister ha messo chi vuole starci ci sta chi come me ha già fatto premium quello non pretendo di riaverlo indietro sono stato un pollo io a farlo però posso dire io ormai ho fatto premium quindi almeno per quest'anno intanto che non mi scade lo utilizzo alle nuove condizioni che non saranno vantaggiose come quelle che c'erano tempo fa però mi possono in qualche modo andare bene c'è chi invece si riprende i suoi soldi saluta e ame amici come prima però secondo me questa potrebbe essere un'alternativa a una lotta muro a muro che non porterà da nessuna parte ditemi voi se avete già sentito questa proposta se è già stata fatta se è una cavolata che ho pensato io una cosa infattibile insomma ditemi i vostri pareri magari fatelo sentire anche a chi sapete che ci sta un po' più dietro ogni commento comunque è sempre costruttivo perché se vogliamo uscire da questa situazione come dico sempre non possiamo darci addosso l'uno con l'altro sui social pensare che noi siamo sempre i più perdonatemi te siamo i più sfigati che il prossimo è sempre più avvantaggiato di noi perché io perdo 10 euro mentre lui ne perde solo 1000 e quindi io sto peggio di lui cioè stiamo ognuno con le sue possibilità ognuno con le sue debolezze siamo tutti nella stessa barca quindi noi dobbiamo unirci non contro SIX ma per riuscire a riavere comunque quello che ci spetta e quello che ci era stato promesso se non ci vogliono dare quello che ci avevano promesso almeno che ci ridivano i soldi che noi abbiamo speso siamo gente onesta loro presuppongo che siano gente onesta anche loro quindi un qualcosa bisogna fare non si può sempre trovare delle scuse ah ma però voi avete utilizzato in maniera sbagliata ah ma voi però vedete approfittati è chiaro che se te non metti dei paletti o non metti delle clausole ben definite io perché non lo devo fare una cosa non la devo fare quando nessuno me lo vieta quindi la colpa ognuno si prenda le sue di colpe innanzitutto comunque se avete anche qualche altra idea tiratela fuori ecco magari lasciatelo sotto nei commenti poi ci risentiamo ciao ragazzi grazie